Marco si parte dopo tante settimane di allenamento, inizia il campionato, un campionato che sarà duro perché ci sono tante squadre forti, subito una arriva al Palapanini Scandici, si parte subito con il piede giusto per assaggiare come sarà la stagione. Sì, ci aspetta un esordio molto complicato contro una squadra che si è attrezzata tantissimo nell'estate per raggiungere obiettivi prestigiosi un po' come noi, di sicuro la prima giornata di campionato è sempre una giornata molto particolare perché le squadre si sono unite da poco, l'amalgama sicuramente non è perfetto né da una parte né dall'altra, La squadra di conseguenza conterà molto, riuscire a far benissimo le cose semplici e metterci soprattutto quello che è, lasciatemi così la parola, il cuore individuale di squadra per cercare di raggiungere l'obiettivo. Come vedi la squadra, come arriva questo appuntamento? La squadra si sta unendo, si sta amalgamando, sta cercando di consolidare quelle che sono le certezze individuali tecniche e mettendo a disposizione delle compagne nuove, le situazioni tattiche di ognuna di noi. Siamo all'inizio, abbiamo bisogno di tempo, però a pochissime ore dall'appuntamento dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo perché, ripeto, penso che Scandici sia una squadra veramente che si è rinnovata tantissimo, ha comprato ottimi giocatori, ha cambiato staff tecnico, ha riportato in Italia Carlo Parisi, quindi sarà una gara molto, molto difficile, molto avvincente, ma noi vogliamo ripartire dal Palapanini, da quello che è stato un finale di stagione meraviglioso per nello scorso anno e per poter raggiungere determinati obiettivi è fondamentale ripartire da quello che è casa nostra, quindi cercare di dare il massimo per portare a casa una vittoria che per noi sarebbe veramente importante. Scandici ovviamente l'avete studiata, l'avete vista anche in campo durante questa prestagione, è una squadra che ha dei talenti, ha dei giocatrici giovani, ha dei esperti, insomma un bel mix. Sì, è una squadra composta da, sono d'accordo, è una squadra mixata nel senso che ha preso giocatrici di grandissima esperienza internazionale come Lucia Bosetti, come Della Cruz, come Arighetti, come Adenizia, inserendo comunque giovani molto, molto interessanti come la palleggiatrice Carlini, LAC che, devo dire la verità, è un giocatore di prospettiva sicura, una squadra molto forte, molto completa, anche con una panchina di spessore internazionale. Detto questo, è una squadra che come noi è da poco insieme, perché è vero che abbiamo studiato l'avversario, però il sestetto completo lo abbiamo visto solo in poche situazioni. Di conseguenza sarà importante anche un adattamento veloce durante la gara, durante i singoli set e soprattutto mantenere l'ordine e la lucidità nei momenti difficili.